Studenti foggiani in visita alle caserme dell'esercito dei carabinieri di Foggia. In occasione della festa delle forze armate, infatti, si è svolto anche il tradizionale appuntamento con caserme aperte presso il gruppo carabinieri forestali in via Trinitapoli e presso l'undicesimo reggimento Eugenio Guastatori in via delle casermette, dove sono stati messi a disposizione dei cittadini e le scolaresche mezze e materiali dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri. Il 4 novembre, anche a Foggia, è diventato un appuntamento fisso atteso dai cittadini per conoscere la vita delle forze armate e dei reparti che sono presenti nella nostra città.